E' bellissimo! Seguitemi! Aspettate, dove state andando? Almeno voi siete rimasti per venire a conoscere Pedro! Polly, guarda le galline! Oh, che carine! Ma non volete venire da Pedro? Beh, almeno voi siete rimasti per conoscere il mio cavallo! Guardate! Barney corre dietro alle pecore! Io le adoro! Andiamo a vedere!